Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Tempo è in miglioramento, ma con ancora temperature piuttosto fredde per il periodo, in connubio a 20 tessi dei quadranti settentrionali. Giovedì 14. Condizioni di cielo poco parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso di Pollino e Sila, oltre che sul basso Tirreno. Qui saranno ancora possibili isolati fenomeni, debolmente nevossi sulle principali vette del nord della Calabria. 20 tessi di grecale tramontana, forti sul crotonese. In conseguenza di ciò, il marione dovrebbe risultare molto mosso o localmente agitato. Mosso il Tirreno o localmente molto mosso. Temperature in ulteriore calo nei valori notturni, sotto le medie del periodo. Ritorno del bel tempo per venerdì 15 ottobre, seppur continueremo ad essere interessati da una ventilazione da nord moderata o a tratti forte. Le temperature resteranno più basse della norma. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie. 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 Grazie.